Ho fatto una dieta, ho fatto. Per dimagrire? No, l'ho fatta per diventare più alta, l'ho fatta. Il dottore, visto che non riuscivo a buttare giù peso, mi ha detto, puntiamo ai 9 metri, mi ha detto. Così 90 kg, sui 9 metri si vedono meno. Che cazzo ti fa a fare la spesma da burta? Ma vaffangura, te che ti abbatte il forno del burro. Gabri, cosa stai facendo? Che cosa pensi che io stia facendo? Sto bevendo l'acqua! Ma quella del water, non puoi berla! Ma che dici, questo è buonissimo! Ma bevi quella della bottiglia come faccio io? Da dove pensi che l'abbia preso quell'acqua, scusi? Come ha cambiato la tua vita scolastica? E ha cambiato un po', cioè, sto andando bene a scuola, però ogni tanto zoppico. Cioè, prendo un voto buono, poi crollo, poi vado bene e poi crollo. Insomma, alti e bassi, si può dire. Sei a spasso con tua figlia? Non è mia figlia, è la mia nicotina. Svegliati che tardi, devi andare a scuola! Ma mamma, non voglio andarci, mi oddiano tutti lì dentro! Alzati subito, è il tuo dovere! Dammi un buon motivo per andarci! Sei il professore!